Buongiorno a tutti, sono Matteo, il responsabile sviluppo e produzione degli occhiali Sport Viver Tony Iwer. Oggi vi presentiamo il modello FT1000. Questo prodotto è realizzato in nylon mesh, un polimero molto resistente agli urti, flessibile e morbido. Questa caratteristica rende il prodotto resistente, leggero ed estremamente flessibile. È adatto a tutte le condizioni, dalle alte temperature estive in bici al freddo sulle piste da scena inverno. Le lenti sono provviste di fori superiori e inferiori per facilitare il ricambio dell'aria e la fuoriuscita di condensa, garantendo quindi una visione sempre nitida. Il nasello, morbido e confortevole, è rivestito in mego all'antiscivolo, così come le astine. Queste caratteristiche permettono un grip unico e una calzata morbida. La montatura, realizzata in nylon ATPX, un materiale a densità 0.83, talmente leggero che è in grado di galleggiare. L'elastico, regolabile e removibile, permette l'utilizzo di questi occhiali anche praticando sport estremi. Questo modello è disponibile nelle seguenti colorazioni. Grazie per la visione! Grazie a tutti!